La scuola basket Arezzo è tornata in campo con tutti i suoi atleti. L'arrivo della primavera è stato infatti caratterizzato dalla ripresa delle attività per tutte le squadre della società aretina, che tra ritorno agli allenamenti e vio dei campionati ha permesso a circa 250 bambini e ragazzi di vivere nuovamente le emozioni della palla canestro. La preparazione per i gruppi agonistici dall'Under 13 alla Serie C è stata ospitata al Palace Portestra Mario D'Agata, nel rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione del Covid-19 previste dai protocolli federali, mentre i più piccoli del minibasket a Nova Verta hanno avuto l'opportunità di giocare all'aperto a livello individuale nel campo playground che fu inaugurato lo scorso ottobre ed intitolato a Kobe Bryant. I primi campionati ad essere partiti sono quelli di interesse nazionale con le due squadre senior dell'Amesba, che stanno militando nella Serie C Gold e nella Serie D e con l'Under 18 Technoil e l'Under 15 Kimet, che hanno rotto il ghiaccio nella più importante manifestazione giovanile d'eccellenza. Nel mese di maggio inoltre è previsto il debutto dell'Under 18 Rosini nel campionato Silver, ma la ripresa degli allenamenti in palestra ha riguardato anche l'Under 16 Rosini Silver, l'Under 14 Dunia Pac Elite, l'Under 14 Galvar Regionale e l'Under 13 Regionale, che dovrebbero tornare a confrontarsi con le altre squadre in estate nei campionati all'aperto 3 contro 3. Queste ultime manifestazioni rientrano nel circuito 3x3 Italia FIP Circuit, che sotto legida della federazione ha l'obiettivo di promuovere questa disciplina olimpica a livello nazionale e vedrà impegnati anche i ragazzi della SBA in virtù della possibilità di poter fare affidamento sul campo Kobe Bryant, che è stato omologato proprio per questa tipologia di competizioni. Tale rinnovato fermento non comprende il progetto sociale di basket integrato, che sostenuto da BM e Centro Tecnico, permette di fare sport a chi ha disabilità fisiche, intellettive e relazionali e che per il momento resta l'unica attività purtroppo ancora ferma.